E' pronta a partire la prima comunità energetica a Ciar Pescara. L'ultimo step è il decreto attuativo del governo, atteso da oltre un anno e mezzo e che dovrebbe essere approvato a breve come recentemente dichiarato dal ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin. Sotto il profilo tecnico gli impianti fotovoltaici sono già installati. A Pescara sette le scuole completate, tre lo saranno entro l'anno ed è esaurita anche la complessa parte amministrativa durata oltre un anno e mezzo. Comune Pescara Energia S.P.A. e Arda, associazione regionale da un Abruzzo, sono i primi soggetti della Ciar, a cui naturalmente possono aderire cittadini, aziende ed enti. Nei giorni scorsi a Pescara si è fatto il punto in un convegno sullo stato dell'arte della comunità energetica Ciar Pescara. Nel corso dell'appuntamento diversi esperti hanno illustrato gli aspetti tecnici, economici, legislativi, ma soprattutto i benefici delle comunità energetiche. E allora iniziamo l'approfondimento con l'intervista all'amministratore unico di Pescara Energia Giuliano Diodati. Partiamo dall'ABC, che cos'è una comunità energetica? Una comunità energetica è giuridicamente un ente del terzo settore che produce energia e distribuisce questa energia sul territorio. I cittadini, tutti i cittadini di Pescara possono iscriversi sul portale cerpescara.it e nel momento in cui partirà questa comunità energetica loro avranno un risparmio nel consumo dell'energia per quanto riguarda il discorso economico, nel senso che loro continueranno a pagare la bolletta per l'energia consumata, ma a fine anno il GSE, che è quello che gestisce a livello nazionale le comunità energetiche, manderà un bonifico sul conto corrente del cittadino direttamente che noi dai calcoli che abbiamo fatto, perché questa è una cosa tutta nuova che tutti noi stiamo conoscendo ora dovrebbe corrispondere all'incirca al costo di una bolletta bimestrale. Questo viene fatto perché il comune di Pescara, l'amministrazione comunale insieme a Pescara Energia ha portato avanti un percorso di tipo tecnico-amministrativo molto complicato e abbiamo non solo portato avanti questo discorso e abbiamo costituito la prima comunità energetica, ma abbiamo anche realizzato un numero importante di impianti fotovoltaici sui tetti cittadini di alcune scuole che erano adeguate per poter raccogliere il fotovoltaico, per cui in questo anno abbiamo realizzato 10 impianti fotovoltaici. Il nostro obiettivo è quello nel 2024 di realizzarne ulteriori 10 per fare in modo che la comunità energetica cresca sempre di più. Lei parla di impianti fotovoltaici, le comunità energetiche si possono fare solo con gli impianti fotovoltaici? No, si possono fare con tutti i tipi di energia rinnovabile, quindi fotovoltaici o per esempio paleoliche. Noi qui naturalmente abbiamo utilizzato e stiamo utilizzando gli impianti fotovoltaici. È un percorso molto virtuoso. Noi abbiamo impiegato un anno e mezzo per portare avanti e riuscire a scardinare tutte le difficoltà che abbiamo incontrato durante quest'anno e mezzo. I tempi rimangono sempre, la cosiddetta burocrazia un po' rallenta questo processo. Sì, le normative sono abbastanza complesse, però diciamo che sia noi di Pescara Energia con l'ausilio del Comune e di professionisti molto preparati siamo riusciti, oramai ci manca veramente qualche metro, non diciamo l'ultimo miglio, è qualche metro legato all'approvazione di un decreto ministeriale che manca, siamo proprio alla fine. Dottor Diodati, lei prima accennava ai benefici economici e si capiscono quali sono, però ci sono anche, credo, dei benefici sociali. Quali? Assolutamente sì, consideri che intanto dentro la prima comunità energetica costituita qui a Pescara, oltre al Comune di Pescara e a Pescara Energia, ci sarà all'interno un'associazione che si occupa di sociale che è l'ARDA, associazione ragionale Down Abruzzo. Ma poi produciamo energia pulita, nel senso che voglio dire è un'energia rinnovabile, pulita che credo sia assolutamente un aspetto fondamentale di cui tener conto nel progetto portato avanti. Insomma, possiamo dire che il futuro sta in queste comunità energetiche, bisogna incentivarle e parlarne anche sempre di più? Guardi, noi l'idea è partita quando io ho ascoltato un'intervista dell'ex Premier Draghi in televisione dove sui fondi PNRR 2 miliardi di euro erano stati destinati proprio per le comunità energetiche. Quindi, voglio dire, noi siamo forse tra i primi in Italia a portare avanti questo tipo di attività, credo che nel giro di breve ci sarà un'esplosione delle comunità energetiche perché in questi momenti di grande difficoltà, e poi lo vediamo con le crisi energetiche che si sviluppano in questo periodo qua, dare un supporto ai cittadini, fare qualcosa di importante dal punto di vista sociale è uno degli obiettivi che devono avere le amministrazioni. Amministrazioni, ma come detto il discorso coinvolge aziende e privati cittadini che devono farsi trovare pronti e unire le forze in modo da poter partire di slancio, come sottolinea Eleonora Egalini, project manager presso GSE. Quello che stiamo consigliando ai comuni, io nello specifico appunto per il GSE rappresento una funzione che fornisce assistenza ai comuni, questa è una promessa fondamentale, consigliamo loro di prepararsi, di cominciare a unirsi, un comune può diventare promotore, quindi farsi in prima persona proporsi come costituente di una CER, può mettere a disposizione i propri asset, i propri impianti, può partecipare a CER precostituite, è necessario fare un'analisi dei consumi dei comuni, è necessario trovare le aree idonee a realizzare eventualmente impianti laddove non ci dovessero essere, è importante in alternativa individuare gli impianti già funzionanti che possono essere appunto funzionali alla comunità energetica e iniziare a organizzarsi, organizzarsi con un ufficio appunto che amministri e che scelga quale statuto adottare, quale modalità di condivisione, gestire gli ingressi e le uscite possibili dalla comunità, perché comunque è una costituzione di un ente che durerà 20 anni, quindi è necessario prepararsi al meglio nella sua gestione nel tempo. Ecco, il momento è vicino, bisogna farsi trovare pronti, ci sono già dei numeri a Pescara ma anche in Abruzzo, le comunità energetiche insomma trovano il favore dei cittadini, delle comunità e anche degli enti e delle aziende. Allora, su scala nazionale sono diverse le comunità energetiche che hanno chiesto la qualifica finora e che sono state qualificate dal GSE, quelle a trazione pubblica sono ancora poche, sono poche e di quelle qualificate, bollinate GSE ancora in Abruzzo non ce ne sono, ma dopo aver sentito questa iniziativa bellissima di CER Pescara mi aspetto che arrivi presto e verrà assolutamente non solo qualificata ma anche resa un esempio nazionale perché se davvero prenderà il via questa CER Pescara mi sembra un'eccellente soluzione di coinvolgimento della collettività, quindi può diventare un esempio proprio per tutti gli enti nazionali. Con l'ingegnere Giovanni Caruso approfondiamo un po' di più a che punto di questa prima comunità energetica CER a Pescara si è arrivati? Sì, Pescara Energia è pronta, gli impianti sono stati realizzati, due di questi impianti sono già allacciati e già producono energia elettrica soddisfacendo l'intero fabbisogno dell'edificio e mettendo a disposizione energia per i cittadini. Gli impianti sono stati opportunamente sovradimensionati rispetto al fabbisogno dei singoli edifici proprio per generare quell'energia aggiuntiva che sarà messa a disposizione dei cittadini che entreranno a far parte della comunità energetica. Quindi siamo in attesa del famoso decreto attuativo che dovrebbe uscire e che dovrebbe consentire il via definitivo al progetto e nel frattempo possiamo dire che già stiamo producendo energie e che le stime ci consentono di prevedere un numero importante di famiglie che potranno senza alcun impegno economico da parte loro aderire al progetto ed entrare a far parte della comunità energetica. Da quello che abbiamo capito si tratta almeno in Abruzzo della prima comunità energetica? Sì, sicuramente è la prima comunità energetica forse anche a livello nazionale di queste dimensioni perché noi abbiamo già realizzato 10 impianti da 100 kilowatt quindi parliamo di una comunità energetica che andrà sopra al megawatt di picco per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici e sicuramente siamo la prima realtà con questa dimensione e con questa concretezza. Ingegner Caruso, esageriamo nel dire che parte proprio con l'istituzione di queste comunità energetiche una rivoluzione energetica? Sì, anche secondo me stiamo parlando di una rivoluzione copernicana nel senso che passiamo da una distribuzione centralizzata dell'energia elettrica quindi da energia che arriva dall'estero e distribuita in Italia a una produzione localizzata fatta dalla comunità energetica per la comunità energetica per soddisfare i propri fabbisogni. Finale con la parte istituzionale. Il sindaco Carlo Masci ricorda come Pescara sia città che da tempo punta sulle buone pratiche energetiche. Sì, parliamo di transizione energetica applicata al territorio perché molto spesso si parla di questi temi ma concretamente le cose non si vedono. A Pescara invece si vedono grazie al lavoro sinergico tra il comune e Pescara Energia abbiamo realizzato su 10 scuole impianti fotovoltaici e su altre 4 scuole li stiamo realizzando in maniera tale che alla fine di questo percorso avremo energia a costo zero pari a 900 appartamenti un numero incredibile che sembra quasi irrealistico invece a Pescara lo abbiamo fatto e tutto questo servirà per dar vita alla prima comunità energetica a cui i cittadini potranno agganciarsi per avere vantaggi in termini energetici e anche risparmi sulla bolletta. Come amministrazione comunale dopo le scuole vi concentrarete su qualche altro settore? Gli impianti sportivi, ma già stiamo lavorando su questo perché ogni struttura comunale può essere dotata di impianti fotovoltaici per avere consumo zero e quindi risparmiare energia e risparmiare costi conseguenti. Chiusura con il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. L'Abruzzo ha approvato una legge regionale quadro molti mesi fa quando, devo dire, questa ottima idea delle comunità energetiche ovvero di mettere insieme in settori, in segmenti, in porzioni di territorio produttori e utilizzatori al fine di rendere meno costosa e rinnovabile l'energia che viene prodotta. Passare dalla teoria ai fatti, secondo me, è più facile, più efficiente e meno costosa se si è guidati da professionisti del settore e da utilities pubbliche come Pescara Energia che hanno dimostrato nel corso del tempo di avere un know-how tecnico importante una capacità amministrativa importantissima e una visione lungimirante. I temi della transizione ecologica sono fondamentali i tempi che ci vogliono per raggiungere una piena sostenibilità del nostro fabbisogno energetico ovviamente non sono immediati questo non vuol dire che non bisogna iniziare però non bisogna distruggere un tessuto industriale e imprenditoriale che comunque in questa regione è ancora forte e va tutelato.